Allora, l'ultima volta abbiamo fatto un pochino di sforzo introduttivo adesso si tratta di dare le definizioni di integrale per prima cosa andiamo a dare la definizione di funzione a scaglia una f da r in r si dice funzione a scalino in inglese step function se solo se per definizione f di x è uguale a somma per i che va da 1 fino ad h di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i con i di x adesso specifichiamo meglio cosa sono queste cose dice anche che f è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli segni aperti a testa combinazione lineare si riferisce al fatto che è una somma per i che va da 1 h di lambda con i per certe funzioni queste funzioni sono funzioni caratteristiche di intervalli segni aperti a testa come è fatta una funzione caratteristica? quindi a ritro non suotiamo quest'altra definizione abbiamo e un sotto insieme di r la funzione caratteristica di e nel punto x vale per definizione 1 se x appartiene ad e e 0 se x non appartiene ad e quindi come è fatta una allora qua scrivo giusto per far capire faccio una figura grafico di della funzione caratteristica di un intervallo a b poi capiremo perché l'intervallo lo scegliamo semiaperto a testa allora giusto a e b allora come è fatto il grafico di questa funzione qui? bene andiamo a vedere quali valori ha la funzione se x è nell'intervallo la funzione vale 1 se x è fuori dell'intervallo la funzione vale 0 quindi aspetto 1 questo livello qua tra a e b la funzione vale 1 e fuori di a b la funzione vale 0 quindi la nostra funzione è una funzione che vale 0 nel punto a vale 1 nel punto a vale 1 da a fino a b vale 1 nel punto b vale di nuovo 0 e poi da b in corso attenzione quindi quindi che in questo punto la funzione vale 0 mentre in questo punto qui la funzione vale 1 andiamo a fare degli altri esempi esempio la funzione caratteristica di 0,3 di x vale 1 se x è compreso tra 0 e 3 quindi 0 altrimenti allora facciamo delle osservazioni osservazioni se c è un punto strettamente compreso tra a e b allora la funzione caratteristica di a b è uguale alla funzione caratteristica che va da a fino a c più la funzione caratteristica da c fino a c cioè che cosa sto dicendo? non serve fare un nuovo disegno basta usare quello precedente se torniamo qui prendiamo un c che è al meglio la mia funzione caratteristica questa qui dell'intervallo a b la posso sempre scrivere come la funzione caratteristica da a fino a c e quella da c per quale motivo? andiamo a valutare il punto x qui Grazie. Allora. Allora, che cosa succede? Se x è minore di a, questa vale 0. Questa vale 0. Se x è minore di a, è anche minore di c, perché c è più grande. Quindi questa vale 0. Quindi otteniamo 0 uguale 0. Andiamo a prendere x compreso tra a e c. Cioè, in questo caso qui. Allora, se x è minore di c, è anche minore di b. Quindi questa vale 1. Questa vale 1. Ma questa vale 0. E quindi vediamo che questa è uguale a 1 uguale a 1. Prendiamo x compreso tra c e b. Stavolta, questa vale ancora 1. Questa vale 0, perché x è maggiore di b. Ma questa vale 1. perché x è compreso tra c e b. E quindi ci troviamo ancora. Se x, infine, è maggiore o uguale di b, questo lo attimo tutto a 0. Cioè, altrimenti d. Si vede ancora meglio con il grafico. Vedete, il grafico della funzione tra e c è questo qua. Il grafico della funzione tra c e b è questo qua. Quando vi andate a sommare i grafici. 1 più 0 si sommano fa 1. 1 più 0 si sommano fa 1. E quindi otteniamo il grafico della funzione caratteristica dell'intervallo a. Adesso riuscite a intuire perché gli intervalli vengono presi semi aperti a destra. Perché se io l'avessi preso chiuso o aperto cosa mi succedeva? Se l'avessi preso l'intervallo aperto la funzione somma nel punto c veniva 0. Se l'avessi preso chiuso la funzione somma nel punto c veniva 2. Perché il punto c appartiene a tutti e due gli intervalli chiusi a c e c b. Quindi non avrei avuto, per esempio, questa proprietà. Allora è come il discorso dei mattoncini dell'eco. Da una parte hanno la sporgenza e da una parte hanno l'inco per potersi incastrare. Queste due funzioni caratteristiche quando le somme mi danno una funzione caratteristica di un intervallo più lungo. Perché? Perché sono due intervalli che sono diciamo uno inizio e due lato inizio. Ok? Andiamo a fare un esempio più complicato. Ripartiamo da prima, da quella di prima. e andiamo a studiare la funzione phi di x uguale 2 per la funzione caratteristica di 0,3 più 3 per la funzione caratteristica di a. Mettiamo 2,5. questa è una funzione a scalino, vedete? Ho preso due funzioni caratteristiche le ho moltiplicate per due costanti le costanti possono essere anche negative che qua per semplicitare non c'è scritto da nessuna parte lambda i ho dimenticato di scrivere la funzione caratteristica di a. Allora, andiamo a vedere che succede. Allora, io direi che la situazione si deve articolare nei seguenti casi. Allora, quando x è minore di 0 poi quando x è compreso tra 0 e 2 2 escluso poi quando x è compreso tra 2 e 3 poi quando x è compreso tra 3 e 5 e infine quando x è più grande di 5 Per quale motivo? Vedete? La prima funzione caratteristica è definita sull'intervallo che va da 0 fino a 3 la seconda sull'intervallo che va da 2 fino a 5 E' chiaro che ogni volta che incontro uno di questi punti la situazione cambia adesso i punti sono 4 mi dividono la retta in 5 tutto insieme di cui 3 intervallo e 2 segnali Allora, andiamo a vedere che succede se x è minore uguale di 0 se x è minore strettamente di 0 questa funzione vale 0 perché questa funzione comincia a valere 1 in 0 questa funzione invece v 0 più 0 fa 0 tra 0 e 2 che succede? questa funzione vale 1 moltiplicata per 2 vale 2 e questa funzione invece vale 0 perché stiamo prima di 2 quindi qui la mia funzione vale 2 poi tra 2 e 3 che succede? tra 2 e 3 questa funzione vale ancora 1 moltiplicata per 2 fa 2 questa funzione vale ancora vale pure lei 1 no? moltiplicata per 3 fa 3 2 più 3 fa 5 quindi qua la mia funzione salta a 5 al valore 5 poi nel punto 3 cosa succede? nel punto 3 attenzione che il valore della funzione scende perché questa funzione in 3 nel punto 3 3 non appartiene a questo insieme quindi vale 2 o 0 questa funzione vale 1 perché 3 sta ben dentro questo insieme per 3 vale 3 quindi qua scendiamo al livello e questo discorso rimane vero fino a 5 la funzione qua vale 3 a 5 scusate questo è meglio a 5 la funzione però qua la funzione valeva 2 qua la funzione vale 3 vale 5 qua la funzione vale 3 e qua la funzione vale 2 o quindi il grafico della mia funzione è fatto così allora ulteriori precisazioni perchè la funzione si chiama scalino perchè il grafico della funzione sembra una scala che sale crescendo o se preferite potete assimilarlo al profilo di una pittagonica facendo perchè nel grafico della funzione del diciamo questo lato qui l'ho fatto dritto e questo lato qui l'ho disegnato platteggiato attenzione questo qui non appartiene al grafico della funzione un grafico di una funzione non può avere tratti verticali se vi ricordate come è fatto il grafico di funzione? per ogni x c'è un unico f di x quindi questo tratto qui sebbene io l'ho disegnato con tratto continuo non appartiene al grafico della funzione ma l'ho disegnato in questo modo per distinguerlo da questo in che senso? nel senso che il punto che appartiene al grafico è il punto dove finisce il tratto continuo oppure dove inizia il tratto tratteggiato partendo dal basso cioè qui la funzione vale 5 mentre qui la funzione vale 3 questo perchè? perchè gli intervalli nella definizione a scalino li prendo semi aperti a destra questa è una convenzione si potrebbero prendere due semi aperti a sinistra cambierebbe poco però diciamo la tradizione prende a disegnare per tutto ci siamo fino a qui quindi queste funzioni sono diciamo che proprietà hanno secondo voi? la proprietà fondamentale che noi non perdiamo tempo a dimostrare ma deriva da quello che abbiamo detto facile a dimostrare in realtà è che se io prendo due funzioni a scalino e le sommo otterrò ancora una funzione a scalino questo è un caso molto semplice io ho preso due funzioni caratteristiche ho fatto una combinazione lineare e vedete com'è fatta una funzione a scalino adesso se prendo due funzioni a scalino qualunque e ne faccio una combinazione lineare le cose non cambiano qualitativamente cioè avremo anche lì una sequenza di punti quindi ogni volta il valore della funzione sale e scende però su ogni intervallino diciamo tra due punti consecutivi la mia funzione sarà costante chiaro? quindi diamo la seguente proposizione senza dimostrazione non perché non perché la dimostrazione sia difficile ma perché diciamo fa soltanto se volete la dimostrazione formalmente della faccia della faccia allora proposizione siano fi uguale somma per i che va da 1 ad h di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di con i e si uguale quando non scrivo x vuol dire che questo è definito però mi x appartiene x uguale x uguale somma per j che va da 1 a k mu con j per la funzione caratteristica di c con j di con j a due funzioni a scalino allora allora se andiamo a considerare alfa fi più beta psi la cosa viene uguale? viene uguale alla somma per i che va da 1 ad h e la somma per j che va da 1 a k di lambda i più mu j allora vediamo un po' per la funzione caratteristica di a con i di con i in terze k c con j c con j d con j con j è ancora una funzione caratteristica a dove alfa e b sono due si chiamano coefficienti e combiazioni lasciate lasciate stare la formula poi ci torniamo sulla formula non è importante il concetto è che se io prendo due funzioni a scalino le moltiplico per due costanti e le summo cioè ne faccio quella che ho chiamato combinazione lineale che ho chiamato quello che attengo è di nuovo una funzione caratteristica ok scusate ci manca l'alfa qua e la peta qua e l'ho messa qua ci manca questo si può dimostrare non è difficile allora immaginate semplicemente che f sia la funzione nulla se io moltiplico alfa fi per alfa scusate che psi sia la funzione nulla se moltiplico fi per alfa cosa mi deve venire? mi deve venire la sommatoria per lì che va da 1 ad alfa di alfa lam da i è questa allora alfa lam da i viene perché diciamo psi è nulla e quindi vi per un concetto fa 0 però qui vedete che avete una doppia sommatoria avete la sommatoria per lì che va da 1 ad alfa c'è la sommatoria per c'è che va da 1 a k della funzione caratteristica di queste intersezioni qua ma quando fate la sommatoria interna queste funzioni caratteristiche come sono messe? se ci fate caso sono esattamente delle funzioni caratteristiche di intervallini una appresso all'altro e se fate la somma quindi quando fate la somma per c'è che va da 1 a k vi rimane la funzione caratteristica di a con il b con i e quindi rimane la funzione fi per a ok? questo se la psi fosse nulla se invece fosse la fi ad essere nulla similmente otterreste la funzione beta psi quindi si intuisce che questo sia re la dimostrazione è facilissima però non sto a farlo perché mi confondo solo le idee quello che è importante è che se queste funzioni nascono apposta per poterne fare le combinazioni lineari cioè se io prendo due funzioni a scalino ne faccio le combinazioni lineari quello che ottengo è una funzione a scalino una funzione a scalino cos'era? una combinazione linea di funzioni caratteristiche le mie aperte a destra quando andavo a fare prendo due funzioni a scalino e moltiplico per due costanti le somma vedete queste sono le nuove costanti queste sono le nuove funzioni caratteristiche questi sono i nuovi intervalli vi faccio presente che l'intersezione dei nuovi intervalli segni aperti a destra come può essere fatto? sempre un intervallo segni aperto a destra vi faccio vedere qua che ho un intervallo segno aperto a destra ora o l'altro intervallo l'intersezione potrebbe venire vuoto oppure potrebbe succedere che un intervallo è contenuto nell'altro allora viene l'intervallo più piccolo come segno aperto a destra oppure potrebbe succedere che i due intervalli sono un pochettino accavallati però quando vado a fare l'intersezione che cosa mi viene? mi viene questo intervallo qui che è sempre segno aperto a destra quindi tutte queste definizioni non pongono nessun problema di caratterra un'altra cosa che possiamo notare è che lo scrivo qua mi diciamo un altro spazio qua la scrittura di una funzione a scalino come combinazione lineare di funzioni caratteristiche funzioni caratteristiche di funzioni caratteristiche di intervalli semi aperti a destra non non è unica unica esempio la funzione caratteristica di 0,3 è uguale alla funzione caratteristica di 0,2 più la funzione caratteristica di 2 cioè questa qua la posso scrivere da sola oppure la posso scrivere da sola oppure la posso scrivere da sola di queste due è la stessa cosa allora vedete se noi torniamo a questo grafico qua cosa posso fare? questa funzione che era la somma di queste due questa qua la posso scrivere anche come due volte la funzione caratteristica di 0,2 più 5 volte la funzione caratteristica di 2,3 più 3 volte per la funzione caratteristica di 3,5 la funzione da 0 fino a 2 vale 2 da 2 fino a 3 vale 5 da 3 fino a 5 vale 3 e poi lo valiamo ci siete fino a qua non è complicato ora questa scrittura qua da questa scrittura qua si vede qual è il valore massimo della funzione? no perché qua ci avete 2 poi ci avete 3 qua si vede 2,5,3 si vedono proprio e tutti e solo i valori della funzione la funzione assume i valori 0 che non viene mai scritto poi c'è assume i valori 2 assume i valori 5 assume i valori 5 quindi tra l'altro vale anche la seguente osservazione una funzione a scalino ha un codominio che è un numero finito di valore assume i valori assume solo i valori però tutte e due le scritture per fi sono tutte e due valori se io dico semplicemente che fi è una combinazione lineale di funzioni caratteristiche intervalli se mi aperto in testa la posso scrivere sia così sia così secondo voi quale tra le due scritture è più significativa? questo o questa? eh perché? in qualche modo questa è unica però che cosa ci vuole affinché sia unica? che differenza c'è tra questa e questa scrittura? se prendete questi due intervalli che succede? gli intervalli sono? non? cosa non sono questi due intervalli? e cosa sono questi due intervalli? sono? a due a due i? come sono? quando l'alfa ha delle sezioni con questo quanto viene? i vuoi? non zero, i vuoi qua? i vuoi quindi questi intervalli sono a due a due disgiunti questi intervalli invece? no quindi questa è in qualche modo meglio dell'altra poi però non basta neanche intervalli perché anche qui qua c'è un solo intervallo qua ho due intervalli a due a due disgiunti però la somma di queste è uguale a questa allora cosa ci vuole oltre che gli intervalli siano a due a due disgiunti? ci vuole che quando per avere l'unicità se volessi avere l'unicità della scrittura quando io ho due intervalli che sempre a due disgiunti li mettiamo in ordine crescente della suddivisione dei punti della suddivisione cioè a con i più 1 è uguale a b con i e ci vuole che quando passo da un intervallo all'altro ogni volta la funzione deve cambiare valore se succede che su due intervalli contigui la funzione ha lo stesso valore a sinistra e a destra allora metti i valori in cioè qui è artificioso dire che la funzione da a fino a c vale 1 e poi da c fino a b vale 1 è inutile dico da a fino a b vale 1 cioè posso spaccare però è artificioso se io dico c'è lo stesso valore a sinistra e a destra di c continuo comunque ok? quindi poste queste condizioni io potrei dimostrare che se gli intervalli se una funzione vi ricordo che fi è sempre nella forma somma per i che va da 1 fino ad h di lambda i che è la funzione caratteristica di a con i di con i se gli intervalli sono a 2 a 2 disgiunti e se i lambda i sono tutti diversi tra di loro sicuramente questa scrittura è unica cioè non c'è un altro modo di scrivere la funzione però se non pretengo queste condizioni la scrittura di una funzione a scadino non è unica mi interessano tutti e due i discorsi perché mi interessano tutti e due i discorsi? le funzioni a scalino sono quelle fatte per capire come si fa l'integrale adesso andiamo a vedere come si fa l'integrale di una funzione a scalino come si fa definizione definizione sia fi uguale somma per i che vada 1 a k di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di con i una funzione a scalino una funzione a scalino una funzione a scalino si dice integrale integrale da meno infinito a meno infinito a meno infinito questo è un numero allora da dove viene questa definizione? che senso ha questa definizione? la definizione ha il senso immaginiamo che le lambda con i siano tutte positive ha il senso di calcolare la somma delle aree di questi dettagli per esempio se fi è 2 questa qua insomma se fi è quella dell'esempio di questo esempio qua come si fa integrale allora prendiamolo da sotto io devo fare 2 per 2 meno 0 più 5 per 3 meno 2 più 3 per 5 meno 3 perché devo fare questo? ovviamente la definizione io posso darla come mi pare però che cosa sto calcolando? in realtà 2 per 2 sto calcolando l'area di questo quadrato che fa 4 poi 3 meno 2 fa 1 per 5 sto calcolando l'area di questo rettangolo che fa 5 poi 2 per 3 sto calcolando l'area di quest'altro rettangolo che fa 6 quindi quindi qua mi viene 2 più c più 6 e viene 13 viene vediamo un po' qua 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 era 4 quindi qua era 4 quindi viene 15 ma prima era 4 non era o adesso viene il bello vi ricordate che la scrittura di questa funzione non era unica? per esempio si potrebbe scrivere anche così ma che succede se vado ad applicare la definizione all'altra scrittura? integrata meno infinito e più infinito di fi di x in dx proviamo a usare questa scrittura qui d'altro canto qui c'è scritto che gli intervalli devono essere due a due disgiunti no, non c'è scritto nella definizione non pretendo allora andiamo a vedere qui quanto viene qua viene 2 2 per 3 meno 0 più 3 per 5 meno 2 quindi fa 2 per 3 più 3 per 3 e fa 15 quindi come vedete il risultato non dipende dalla scrittura questa cosa si può dimostrare si può dimostrare l'integraere all'integraere non dipende che cosa intendo dire? non dipende dalla scrittura di fi è chiaro che dipende dal fi ma se io scrivo la stessa fi in due modi diversi ad esempio questo o questo come combinazione lineare di funzioni di caratteristica di intervalli sia in retto e a destra e vado a fare l'integrale scopro che l'integrale viene sempre lo stesso o lo faccio in modo ora questo si non lo dimostriamo anche questo non è difficile da dimostrare ma non lo faccio per convincervene provate con varie funzioni a scriverle in modo diverso fare funzioni a scalittura provate a fare l'integrale e vedete che viene sempre la stessa cosa cosa calcola l'integrale? l'integrale calcola l'area di questo sottografico però attenzione in senso algebrico cioè facciamo un altro esempio se la mia funzione fi è 3 per la funzione caratteristica tra 0 e 2 più la funzione caratteristica tra 2 e 3 meno 5 volte la funzione caratteristica tra 3 e 5 che vuol dire? vuol dire che tra 0 e 2 la funzione vale 3 tra 2 e 3 la funzione vale 1 e tra 3 e 5 la funzione vale meno 5 quindi la funzione vale 3 ok, quando vado a fare meno 5 un po' di più quando vado a fare l'integrale quanto mi viene l'integrale di phi? l'integrale tra meno infinito e più infinito il phi di x in dx si scrive così si legge l'integrale tra meno infinito o su tutto è il phi di x in dx poi vedremo perché quanto fa? 3 per 2 fa 6 più 1 meno 10 2 per 3, questo intervallo lungo 2 ha altezza 3, 6 questo intervallo lungo 1 ha altezza 1 qui la funzione ha altezza 1 qua l'integrale lungo 2 la funzione vale meno 5 in questo caso l'integrale vale meno 3 quindi non è l'area la somma delle aree di questi rettangoli ma esattamente che cos'è? la somma delle aree dei rettangoli che stanno al di sopra dell'asse delle ascisse meno l'area dei rettangoli che stanno al di sopra dell'asse delle ascisse cioè quelli che stanno al di sopra dell'asse delle ascisse devono essere contati con meno chiaro? quindi è l'area di questi l'area di questi meno l'area di questi ok? bene allora facciamo un attimo il riassunto e dopo di che ci fermiamo 5 minuti allora che cosa abbiamo fatto? abbiamo introdotto delle funzioni su qualche testo vengono chiamate funzioni semplici io preferisco chiamate funzioni a scalino che è più precisa le funzioni semplici sono quelle che hanno un cotonino finito cioè un numero finito di valori qua c'è qualcosa in più non solo i valori sono in numero finito ma la funzione assume questi valori costanti su intervalli semiaperti quindi come fate i grafici una funzione semplice sono degli scalini che salgono e che scegliono fate attenzione perché i tratti verticali non appartengono mai al grafico queste funzioni come sono fatte? sono funzioni che hanno sono per loro natura discontinue quanti punti di discontinuità hanno? sono tutti punti di discontinuità salvo in questi punti di discontinuità la funzione è continua da destra e discontinua da sinistra vedete qua la funzione il limite da sinistra vale 0 la funzione nel punto vale 3 qua il limite da sinistra vale 3 ma la funzione nel punto vale 2 che è il limite da destra qua il limite da sinistra vale 2 ma la funzione nel punto vale meno 5 e il limite da destra qua il limite da sinistra vale meno 5 ma la funzione del punto valore è 0 che è linea da destra quindi le funzioni hanno alcuni punti di discontinuità salto in questi punti la funzione è continua da destra sulla parte destra diciamo il limite da destra è uguale al valore della funzione del punto mentre la linea della sinistra non è mai nei punti di discontinuità uguale è sempre diverso dal valore della funzione si dice è continua a destra o una funzione ripeto ha un grafico che assomiglia diciamo la parte compresa tra il grafico e l'asse delle ascisse assomiglia a un'unione cioè è un'unione diretta abbiamo visto che questa scrittura di una funzione a scalino non è unica potrebbe essere resa unica qualora imponessimo che gli intervalli siano no a due a due disgiunti e che diciamo nei punti che i valori delle lambda con i siano tutti diversi la scrittura di una funzione a scalino mi sa che non c'è più comunque è una combinazione lineare per somma di lambda con i per chi di a con i con i c'è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di del valore siano aperte a destra perché sono state introdotte queste funzioni a scalino? per farci l'integrale l'integrale come si fa? l'integrale eccola qua la funzione a scalino si scrive così se si scrive così l'integrale si calcola in questo modo cioè l'integrale è il prodotto dei valori della funzione per la lunghezza degli intervalli dove questo valore viene stato questo per ogni addendo della somma che mi dà la funzione a scalino naturalmente se gli intervalli sono a due disgiunti questi coincidono con i vari valori della funzione altrimenti però quello che è importante è che se io uso una forma di scrittura di fi o un'altra scrittura equivalente di fi cioè nel senso vado a scrivere fi in un modo simile ma con altri intervallini con altri valori ma in maniera tale che alla fine venga sempre fi è quello che si può dimostrare verificare in maniera abbastanza semplice è che il valore dell'integrale è sempre lo stesso ok? quindi cosa rappresenta geometricamente questo integrale? l'abbiamo visto con l'esempio rappresenta l'area si dice del sottografico della funzione però intesa in senso al genere cioè l'area che sta al di sotto del grafico della funzione o per meglio dire tra il grafico della funzione e l'asse d'ascista però intesa con il segno positivo quella che sta al di sopra diciamo tra l'asse d'ascista e il grafico della funzione quando questo sta al di sopra dell'asse d'ascista e in senso negativo quella che scade al di sotto dell'asse d'ascista questo è quanto? queste sono le funzioni a scalino e questa è l'integrale di una funzione a scalino c'è quindi una serie di definizioni qualche cosina da capire ma questo è adesso qual'è il programma? ci riposeremo cinque minuti ma il programma subito dopo sarà quello di prima di tutto analizzare le proprietà di questo integrale ok? e secondo usare questo integrale la definizione di questo integrale è per andare a calcolare gli integrali una funzione più complicata ok? quindi tramite le funzioni a scalino noi vorremmo vorremmo fare portare avanti quel programma che abbiamo visto l'altra volta cioè approssimare dal basso e dall'altro altre funzioni quando tu approssimati dal basso e dall'altro una funzione vi ricordate la figura dell'altra volta in cui noi prendevamo un'area e l'approssimavamo dall'interno e dall'esterno allora noi vorremmo approssimare dal basso e dall'altro una funzione con le funzioni a scalino e cercare di vedere se possiamo dire che l'integrale di questa funzione si può ottenere come limite estremo superior insomma come a partire dall'integrale della funzione di a scalino minoranti e maggioranti e poi andare a vedere se le proprietà di questa integrale saranno le stesse di quelle che avremmo evidenziato sulle funzioni a scalino ok